Buongiorno a quelli che sono presenti qua e anche a quelli che sono online, tanto spero di non cadere giù da qua perché può essere che guardo non guardando. La mia presentazione di oggi parla di potenza e dinamica per un maggior profitto. Partiamo subito, mi chiamo Camillo Brena, sono il direttore marketing di Eagle. Quello che vorrei presentare oggi, innanzitutto Eagle è un produttore di macchinari per il taglio laser di automazione, ha iniziato negli arbori degli anni 2000, perciò sono quasi 20 anni che costruiamo questo. Siamo partiti dall'idea, da una visione più che altro, di un concetto di macchina ideale e da lì abbiamo costruito nel tempo, attraverso anche il feedback dei nostri clienti, dei macchinari che ci permettono di dire che portiamo vantaggi a chi li utilizza. Questa è l'idea della macchina ideale che abbiamo in questo momento, perciò una macchina di alte prestazioni, di basso servizio anche, e in questo caso possiamo guardare per dire che abbiamo una velocità, partiamo di posizionamento di 350 metri al minuto, il cambio del palle carico e scarico in 9 secondi, accelerazione a 6G, potenza fino a 30 kW, perciò un macchinario di alte prestazioni e comunque è anche bello da vedere. Ma quello che vorrei presentare oggi non è tanto l'igolola o il perché abbiamo fatto questa macchina, ma quali sono i vantaggi che i sistemi di taglio laser possono dare. Io ho iniziato in Eagle circa due anni fa, vengo da altri settori, allora come prima cosa che ho fatto sono andato in giro dai clienti per capire perché hanno fatto questa scelta e tutti mi spiegavano dell'alta potenza e dell'alto profitto. Allora per capire bene mi sono messo a fare delle presentazioni, dei calcoli e da lì è nato proprio quello che vi sto per far vedere. Allora questo vale per qualsiasi compagnia che al momento sta guardando all'alta potenza. Siamo molto contenti di questo anche perché fino a qualche anno fa tutti ci davano per matti perché l'alta potenza veniva vista come qualcosa di sbagliato. Invece adesso molte aziende come la Eagle spingono su questo e questo porterà a tutti un beneficio perché ci saranno nuove soluzioni. Allora quello che sono andato a fare è un esercizio veramente semplice. Lo chiamiamo Tower of Power, cioè la Tower di potenza. Ho chiesto ai nostri clienti come poter far sì di capire i vantaggi della potenza e mi hanno spiegato ovviamente sul taglio il numero di parti. Perciò abbiamo preso una parte che non è semplicissima, è una parte comune. 12 mm in steel e ho chiesto quant'è il valore di mercato di questa. Abbiamo dato un valore di mercato di circa 2,50 euro e questo poi vi spiegherà in maniera molto semplice il perché. Allora siamo andati a tagliare e vedere quanto pezzi riusciamo a tagliare in un'ora. Molto semplice, perciò partiamo dal 4 kilowatt e siamo andati su. Abbiamo usato solo la nostra macchina, cioè Eagle contro Eagle. La cosa bella è che questo non è soltanto un esercizio matematico ma è anche reale perché la Tower of Power è presente nei nostri showroom. L'abbiamo proprio tagliata, questo è quello che gli ho fatto fare appena ho iniziato a lavorare per loro. Perciò guardiamo, allora se 4 kilowatt tagliamo 46 parti e andiamo su a salire finché arriviamo al 30 kilowatt che parliamo di 327 parti all'ora. Stessa parte. Benissimo, andiamo a vedere adesso quanto è il mio costo e quanto è il mio ricavo. I costi sono ovviamente basati sul costo dell'esercizio, il costo dell'energia, il costo dell'elettricità, l'operatore e via dicendo. Perciò vediamo nella parte bassa, mi sposto senza cascare, guardiamo nella parte bassa, questa parte bassa qua è il mio costo per parte. Perciò 2,17 euro e il mio ricavo in alto è 0,33. Allora se noi facciamo il calcolo della parte del mio ricavo, 0,33 moltiplicato il numero di parti, so quanto è il mio valore per l'ora. 15 euro. Questo è il mio valore puro, 15 euro. Diamo su, 34, 39, 101 euro, 190. Vedete intanto quanta differenza c'è già quando entriamo in quello che definiamo alta potenza, sotto il 12 kilowatt, sopra il 12 kilowatt. 637 euro contro i 15 euro. Sono tanta roba. Io mi chiedevo come fanno alcune aziende a ripagarsi la macchina in un anno. Questo me l'ha spiegato. Non tutte le aziende ovviamente, ci sono determinati fattori, però questo è uno dei modi. Allora per continuare l'esercizio matematico ho detto, vediamo se moltiplichiamo questo al posto per un'ora, ma per una giornata, o una settimana, o un mese, cos'è il risultato? Gli ho messi in questa forma. Perciò il mio profitto per ora, per dire, per il 4 kilowatt è 15 euro, il margine per 8 ore è 121, 70 e 707 a settimana, e il mio margine al mese è 2828. Questo è quello che io ci guadagno su questa parte, tagliando. Andiamo avanti. Se saliamo di potenza, vediamo che abbiamo un grande salto dagli 8 ai 12, per dire, se potete notare, da 16.000 partiamo a 30.000, e poi salendo fino al 30 arriviamo a 102.000 euro. Sono tanta roba. In un mese. Sono tanta roba. Questo è calcolato su 8 ore, basato perciò su un turno solo, e il prezzi, bene o male, ripeto, è un calcolo matematico, perciò è basato, in questo caso, sull'euro. Ma c'è di più. Allora, quello che abbiamo presentato fino adesso vale per qualsiasi compagnia. Ovviamente, magari i numeri cambiano un po', ma vale per qualsiasi compagnia. Perciò, se siete interessati al taglio laser e all'efficienza, l'aumento della potenza vi permette anche di fare un guadagno maggiore. Questo vale per tutti. Ci sono altre cose, però, da guardare per dire il carico e scarico, che è una cosa molto banale, cioè quanto tempo ci metto. Questo, però, diciamo che è uno dei vantaggi di Eagle. Allora, abbiamo messo in confronto quello che noi facciamo con altre aziende. Bene o male, il cambio ciclo, cioè il carico-scarico di altre aziende, è circa 28 secondi, parsa dai 25 ai 39 secondi. In media sono 28. La differenza tra noi e loro sono 19 secondi. A me piace la matematica, perciò ho detto, ok, 19 secondi, cosa significa? Niente, però, moltiplicato il numero di tempi, di cambi che faccio, cosa mi dà? Allora, sono andato a fare il calcolo matematico. Se faccio 6 cambi per ora, su 3 turni, sono 144 cambi. Quanto è il mio valore? Salvo circa 45 minuti in un giorno. Va bene, ma in una settimana? Allora, intanto 45 minuti, se do un tempo orario di tipo 100 euro l'ora, sono 75 euro che risparmio. Sono sempre qualcosa. E andando su, su un 30 kilowatt, che ovviamente il mio costo orario è maggiore, ovviamente ho più costo. Ma a livello mensile, cosa ho? 1.500 euro di risparmio, o quasi 4.000 euro di risparmio. Questo soltanto col cambio del pallet. Soltanto con quello. Non sto facendo nient'altro che un'operazione che fanno tutti, il cambio pallet. In un anno posso risparmiare fino a 45.000 euro soltanto col cambio pallet. Mi ripago l'operatore. In più, visto che è molto veloce, riduciamo anche l'emissione di CO2 perché riduciamo il tempo che l'operatore va a fumare. In questo modo. Questo è una cosa, un vantaggio che ha Eagle per dire rispetto ad altri. In più, voglio farvi vedere un'altra cosa. Velocità di movimento e di taglio. Perché la potenza è importante, il carico-scarico è importante, ma anche è importante la velocità, cioè la mia esecuzione. Adesso vi faccio vedere un video molto semplice. Questo video, come vedete, non ho messo un 30 kW, ho messo un 15 kW su una lamiera di un millimetro e voglio farvi vedere la differenza di tempo tra una dinamica 2G, 3G e 6G. Allora, l'esercizio è stato fatto con la stessa materiale, con la stessa macchina, ma a velocità diversa, 262% di produttività in più, soltanto data dalla velocità del taglio. Perciò, se uniamo la velocità del taglio, la potenza e il carico-scarico, abbiamo di sicuro dei grandi vantaggi. Se poi parliamo di velocità di taglio in funzione della potenza laser, anche qui possiamo, ovviamente, parliamo un po' di cose più tecniche, possiamo vedere, per dire che dagli studi fatti, più alta è la mia potenza, più alta è la mia velocità per il taglio su determinati fattori, tipo, non so, carbon steel, 5 mm, 43 metri minuto, 15 mm, 10 metri minuti, sempre con il 30 kW. E andiamo avanti. Per ultima cosa, vi voglio lasciare con il video che abbiamo fatto, che ho fatto quando abbiamo fatto la Tauro Pablo, che vi dicevo prima, ed è la comparazione tra diverse potenze sul taglio del sample che abbiamo visto di 12 mm. Per questo vi fa vedere non soltanto come significa velocità, sono tutte, è la stessa macchina, perciò molto veloce, ma anche come funziona la diversa potenza. Il 30 è finito. Il 20 Il 15 Il 12 Il 10 E 6, aspettiamo ancora un po'. Ci arriva, eh? Ci arriva. C'è una grossa differenza. Ok, allora, innanzitutto vi ringrazio per questa presenza, ringrazio la miera anche per l'opportunità. Ripeto, i giusti ingredienti per la vostra scelta futura o di oggi, qua la miera, secondo me dovrebbe essere l'alta potenza e la flessibilità che vi dà, la velocità di ciclo di carico e scarico e la dinamica e accelerazione. Questo è quello che vi permette di creare in più dei vantaggi anche economici. Infatti, parliamo di profitto. Io sono Camillo Brenna, rappresento Eagle, vi ringrazio molto di nuovo. Vi invito a visitarci, siamo laggiù allo stand di 27 o andare sul nostro sito e vedere cosa facciamo. Grazie mille, buona giornata.